Tornando nell'incubo, la cittadina garganica di Peschi ha dieci anni dal terribile rovo che distrosse centinaia di ettari di vineta. Nuovi vocolai sono stati applicati nella giornata di martedì in più punti, in località Citrini, a pochi chilometri dal centro abitato, e un altro incendio in località Baia di Manacora, con Trada Milibini. Sul posto sono intervenuti e la situazione è tuttora in evoluzione. Vigili del luogo, carabinieri poestari e volontari della protezione civile che hanno richiesto l'intervento di Canadair che sono tuttora in volo. Le fiamme alimentate dal forte vento di liveggio e da temperature che superano i 40 gradi. La situazione è ancora critica anche perché gli incendi non sono stati ancora domati e nella notte la situazione si è fatta ancora più precaria. La polizia stradale ha chiuso al traffico la statale 89 tra Peschi e Piest e ancora non si sa quando potrebbe riprendere la circolazione. Mimmo Siena, Speciale News.